Buongiorno dalla redazione di Vivi Centro, i 5 fatti del giorno di mercoledì 14 ottobre 2020. Europa, Comitato Europeo delle Regioni, Recovery Fund, Merkel. Puntiamo all'accordo per i fondi del 2021, inizio 2021. Stiamo lavorando duramente per l'intesa con il Parlamento UE. Dobbiamo assicurarci che un accordo con il Parlamento sul bilancio per il 2021-2027 avvenga nel concreto, in modo che all'inizio del 2021, come dicevamo, i soldi del Recovery Fund possano essere effettivamente spesi. L'ha detto per l'appunto la cancelliera tedesca Angela Merkel, parlando in video al Comitato Europeo delle Regioni. Sono personalmente convinta che in questa situazione straordinaria siano necessarie misure straordinarie, ha sottolineato la cancelliera, riferendo che la Germania, alla guida della presidenza semestrale dell'UE, sta lavorando intensamente ed in maniera alacre ogni giorno per cercare di portare e indirizzare la situazione europea, molto preoccupante anche dal punto di vista economico, oltre che del contagio. Specifica quindi la Merkel che la situazione in Europa sta diventando seria. Non ha escluso le nuove restrizioni anche in Germania se la curva dei contagi dovesse continuare a crescere. Francia verso un possibile nuovo giro di vite contro il coronavirus ed è arrivata l'attesa stretta anti-Covid anche in Olanda. Il premier Mark Rutte ha ordinato un lockdown parziale per contenere l'impennata dei nuovi contagi. Tutti i bar, i caffè ed i ristoranti chiuderanno a partire da domani. Fa male, ma è l'unico modo, dobbiamo essere più severi, ha concluso Rutte. I dati invece del Ministero della Salute sul coronavirus. In Italia nelle ultime 24 ore 5901 nuovi casi con ben 112.544 tamponi, 41 però i morti. Le regioni più colpite restano la Lombardia con 1.80 nuovi casi, la Campania a seguire con 635, poi il Piemonte con 585 ed il Lazio anche con un'impennata di contagi, quota 579. In terapia intensiva sono 62 pazienti in più, per un totale di 514 in Italia. I deceduti sono 41 nelle ultime 24 ore. La Calabria con un'unica che dai 44 nuovi positivi di oggi, 4 sono immigranti. De Michele riunisce al MIT, la Ministra De Michele, al MIT le aziende e gli enti locali. È allarme, capienza bus e metro. Trasporto rischia, gli sindacati, interventi su trasporti o sarà mobilitazione. L'epidemiologo, l'opalco, mezzi pubblici non vanno demonizzati ma serve molta più accortezza. Il CTS parlava del 50% per stare tranquilli, ma per arrivare a questo 50% abbiamo bisogno di più mezzi e risorse. A dirlo è a lanciare il monito il presidente del Lanci Antonio De Caro, spiegando che tutti quelli mezzi in circolazione, mezzi pubblici, sono stati utilizzati. Le aziende di trasporto a loro volta non ce la fanno e l'unica possibilità è differenziare gli orari di ingresso e uscita delle scuole e tornare allo smart working, come era fino a qualche mese fa. Una riduzione della capienza però metterebbe in ulteriore difficoltà le aziende. Risulterebbe infatti difficile per gli operatori del TPL continuare a conciliare il rispetto dei protocolli anti-Covid e garantire poi allo stesso tempo il diritto alla mobilità per diverse centinaia di migliaia di utenti ogni singolo giorno, con il conseguente rischio di fenomeni di assembramento alle fermate e alle stazioni. A avvertire e ancora lanciare l'ennesimo monito è l'ufficio studi stavolta dell'Astra, l'associazione che riunisce le società di trasporto pubblici locale. Veniamo alla scuola, visto che se ne è parlato anche come ingressi e uscite per casi di assembramento. Attenzione sia ad attività extrascolastiche, azzolina, i contagi non avvengono dentro le scuole, i ragazzi sono felici di essere tornati a scuola e ci devono rimanere. Anche per quelli più grandi la didattica in presenza è fondamentale perché garantisce formazione ma anche socialità, sottolinea la ministra dell'istruzione. I numeri e le analisi dell'Istituto Superiore di Sanità ci conferma che i contagi non avvengono dentro le scuole. L'attenzione deve essere invece orientata fuori alle attività extrascolastiche, come ribadiamo da tempo. Lo dice all'Agenzia ANSA, la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina. Boccia didattica a distanza al momento non è sul tavolo. Sappiamo che la didattica a distanza è sempre utilizzabile. Viene utilizzata anche per rafforzare l'attività opzionale pomeridiana. Però in questo momento non è sul tavolo. Così a start su Sky di G24 il ministro degli affari regionali per le autonomie, Francesco Boccia. Tutti gli sforzi che stiamo compiendo, ha aggiunto, sono per difendere il lavoro e la scuola. Le regioni non potranno muoversi in autonomia. Le modalità con cui funzionano le scuole sono infatti decise dallo Stato centrale. Insomma, un molito a seguire i dettami di Conte e non andare ognuno per conto proprio. Siamo infine al calcio. UEFA Nations League, gruppo A. La quarta giornata, le probabili formazioni d'Italia e Olanda. Le ultime novità sulle due squadre. Roberto Mancini rispetto alla gara contro la Polonia dovrebbe apportare diverse modifiche al suo schieramento. Il primo dovrebbe essere il rientro di Chiellini al centro della difesa e l'inserimento di Sensis centrocampo, al posto di Berratti. Tra le linee, Lorenzo Pellegrini dovrebbe spuntarla ancora su Esciarabi, comunque negativo al tampone. In queste ore. Mentre l'attacco immobile prenderà il posto dello squalificato Bellotti. Per gli approfondimenti di queste e tutte le altre notizie, rimandiamo alle pragini di croniche di Vivi Centro. Da parte mia Carmine D'Argenio, una buona giornata.